ciao a tutti e benvenuto in un nuovo video di mitemist scp oggi parleremo dell scp 2727 chiamato anche bravi uomini tradotto da vivo perché è il russo scritto questo rispetto agli altri classe dell'oggetto euclid un un post trovato in una delle stazioni di terapia metropolitana contenente scp 2727 per i due speciali contenimenta se non ho detto e classe euclid allora ogni intera di scp 2727 trattino 1 deve essere sigillata all'atto dell'invenimento e la zona di trans deve essere esaminata alla ricerca di e sempre di scp 2727 trattino 2 gli scp 2727 trattino 2 devono essere eliminati sul posto se trovati al di fuori dell'area contenente un scp 2727 trattino 1 gli esperimenti su scp 2727 deve essere approvati da almeno un membro del personale di livello 4 nei casi in cui esemplare di scp 2727 trattino due diventino ostili ogni ingresso noto di scp 2727 deve essere presidiato da almeno 3 agenti di sicurezza fino alla cessazione di tutte le attività scusate ostili descrizione scp 2727 trattino 1 si riferisce a vari modelli di treni della metropolitana localizzati l'inter di diverse stazioni sotterranee situate nel territorio dell'isola di in grecia si è scoperto che scp 2727 trattino 1 dispone di stazio di ingresso di tutti tutta l'isola all'interno delle stazioni della metropolitana ricordano quella degli anni 50 la lunghezza del tale di imbarco per gli scp 2727 trattino 1 arriva fino a metri secondo i rapporti le stazioni della metropolitana possiedono pilastri di supporto a intervalli di 15 metri in tutte le direzioni in cui essi si estendono scp 2727 trattino 2 si riferisce a soggetti umanologi ritrovati all'interno di scp 2727 trattino 1 e delle stazioni della metropolitana i soggetti scp 2727 trattino 2 assomigliano generalmente all'uomo sapiens ma manco di qualsiasi caratteristica facciale solitamente sono tranquilli nei momenti in cui un scp 2727 trattino 1 è presente nella stazione sotterranea osservata i soggetti scp 2727 trattino 2 saliranno su scp 2727 trattino 1 in gran numero mentre un ugual numero di scp 2727 trattino 2 scenderà da scp 2727 trattino 1 durante l'esplorazione di scp 2727 trattino 1 è stato osservato che scp 2727 trattino 1 raggiunge altre stazioni sull'isola le stazioni della metropolitana esplorate attraverso scp 2727 trattino 1 si sono rilevate leggermente differenti inclusi cambiamenti architettonici e anomali le variazioni includono quanto segue architettura della stazione corrispondente allo stile gotico diversi buchi di varia misura lungo le reti il soffitto e le pavimentazioni della stazione una stazione costruito costituita interamente di osteociti di osso umane pareti pavimentazione e soffitto delle stazioni realizzati interamente in quella che sembra essere carne di maiale una stessa non contenente alcune sempre di scp 2727 trattino 2 si è notato che nessun soggetto scp 2727 trattino 2 ha lasciato scp 2727 trattino 1 in questa fermata durante l'esplorazione di scp 2727 trattino 1 i soggetti scp 2727 trattino 2 hanno cambiato aspetto e dimensioni ad esempio sono stati riportati case di scp 2727 trattino 2 trasformati in creature umano di simile al su scrofa domestico in maglia di allevamento si è notato che gli esempi di scp 2727 trattino 2 diventano più stili in questi periodi sono stati riportati case di scp 2727 trattino 2 diventati invisibili all'esterno all'interno di scp 2727 trattino 1 se vedi soggetti scp 2727 trattino 2 fossero visibili fuori da scp 2727 trattino 1 sono stati riportati case di scp 2727 trattino 2 invisibili la abbigliamento indossata da essi non era influenzato dal cambiamento se il video ti è piaciuto come sempre di video ci ha un bel mi piace di continuare a seguire la serie per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao